Allora, buongiorno siamo tutti qua, Tiziano, Gabriele, Paolo, siamo a bordo di una Tesla al modello 85D, ci deve pensare, 85D e siamo dotati di Autopilot, siamo alla stazione di ricarica Supercharger di Rivera, in Cattolicino, e stiamo per andare a provare l'Autopilot, vai! Pronti? Le cinture? Allora, cominciamo subito a dire un paio di cose importanti, l'Autopilot non è una guida automatica, è una guida assistita, quindi il conducente, lui, è sempre responsabile di quello che sta facendo in ogni momento, diversamente da quello che fanno tanti, intanto facciamo partire da GoPro che è qua in alto, diversamente da quello che fanno in tanti, non faremo stupidate, non metteremo a rischio la vita di nessuno, Tiziano terrà sempre le mani sul volante, non ci sarà bisogno di dimostrare che la macchina sta andando da sola, sta mantenendo la corsia da sola, perché semplicemente diremo, la macchina sta andando da sola, ma le mani resteranno sempre sul volante.